e dopo questa grande festa in piazza a Santa Croce sull'anno per la finale di Miss Italia siamo proprio con Miss Toscana ed è una delle top 20 ovvero Chiara Gorgieri live ciao a tutti allora questa esperienza a Jesolo intanto complimenti perché hai fatto un grande percorso grazie mille l'esperienza a Jesolo è stata veramente bella intensa ma torno a casa con delle grandi vittorie davvero e queste grandi vittorie sono avuto anche un grande gruppo perché non solo il gruppo La Lupa ma tanti amici e tanti sostenitori sì praticamente partita la mia famiglia era venuta a Jesolo i biglietti erano solo due poi la mattina stessa hanno saputo che erano tanti di più e quindi sono partiti proprio tutti in gruppo la mia sorella, una mia amica e altri parenti quindi avevo un grande sostegno davvero laggiù e poi so che ti hanno mandato tantissimi messaggi e video della piazza Garibaldi a Santa Croce sì è stato veramente un sogno poter essere a Jesolo e vedere nel frattempo nel mio paese appunto tanto sostegno in quel modo mi mandavano tutti i video, tutti i complimenti e io per il poco tempo leggevo molto di fretta però poi dopo ho riguardato tutto e è stato veramente bellissimo sapere e avere questo calore a casa infatti le immagini che sono passate poc'anzi è proprio la serata sì infatti il video che mi ha colpito di più è stato quando erano tutti in piazza appunto che facevano la presentazione delle 80 e quando sono scesa io e partito l'applauso è stato veramente bello davvero programmi futuri? programmi futuri intanto come dico a tutti lo studio è la prima cosa che porto avanti però insomma accolgo anche tutte le proposte che mi vengono fatte e valuterò allora da Miss Toscana un saluto a tutti i telespettatori di Telecentro 2 so che questo canale arriva fino alla spezia quindi saluto tutti gli amici della Toscana e tutti gli spettatori di Telecentro 2 ed ora concludiamo questo lungo percorso di questa edizione di Miss Italia 2019 con Chiara Gorgieri ovvero Miss Toscana appunto 2019 perché anche hai festeggiato il compleanno al Jova Party sì ho festeggiato il mio ventesimo compleanno al Jova Beach Party è stato bellissimo avevo fissato di andare un'altra volta appunto il 31 agosto ma ero a Jesolo però c'è stata una bellissima coincidenza perché appunto il mio gruppo ha fatto questa festa il 6 settembre in piazza dove hanno proiettato la serata di Miss Italia e nel frattempo avevano già chiamato la cover band di Giovanotti quindi è stata veramente una coincidenza bellissima e ora vediamo questa Jova Tribute Band ma soprattutto anche gli auguri che ti hanno fatto tutti il resto siciliano era ottimo, il cordello specialissimo quindi bravi bravi davvero continuo la serata con la lupa, con la Jova Band ma soprattutto con una novità inaspettata attraverso questo maxi schermo noi tutti insieme potremo stasera tifare per la nostra concittadina Chiara Gorgieri già Miss Toscana Miss Toscana e ora alle finali a Jesolo di Miss Italia quindi davvero una serata ricca di eccellenze tutte santacrocesi buona serata Simonetta Carpina è il presidente del gruppo cannaveresco La Lupa gruppo cannaveresco di Santa Croce sull'Anno che questa sera come potete sentire sottofondo è tutto in subbuglio, l'ha detto anche il sindaco ora dal palco, perché? perché? Perché tra le 80 semifinaliste di Miss Italia c'è la nostra Chiara, la nostra Chiara Gorgieri la numero 10 e noi siamo talmente orgogliosi, talmente felici per lei che non potevamo che mettere un massi schermo per festeggiare con tutto il pubblico, con tutta Santa Croce e niente speriamo che Chiara ce la metta tutta e tra l'altro Chiara è già Miss Toscana e è molto bella la nostra Chiara è stata con noi da bambina, è cresciuta nel gruppo La Lupa, si è mascherata tanto ci ha aiutato a lavorare, fino all'anno scorso è stata qua con le ragazze a servire è una ragazza semplice, solare, bella, le ha tutte, ha vinto delle maschere, continua a sfilare e sono sicura che quest'anno se non si maschera per qualche motivo le dispiacerà ma ora siamo tutti qui per tifare per lei e per votarla e votate, votate, votate la numero 10 grazie tra l'altro Chiara come tanti voi e tanti gruppi di Santa Croce sull'anno siete passati fra le nostre emittente per il carnevale 2019 allora Chiara è già passata nella vostra emittente con le immagini perché ha sfilato come ho detto prima già da diversi anni l'anno scorso ha vinto la maschera in pelle con la maschera dei serpenti quest'anno aveva la macchia di colore e la potete vedere perché ha un fisico e un viso meraviglioso è solare e le maschere le sta a interpretare niente da togliere a tutte le altre nostre bimbe perché sono tutte ragazze meravigliose sono qui e io voglio bene a tutte ma in questo momento tutte tifano Chiara quindi forza Chiara Ilaria Puccioni fa parte del gruppo Cannavalesco La Lupa di Santa Croce sull'anno tantissimi volontari per questa serata importante votate Chiara sì assolutamente noi siamo un gruppo carnevalesco più che un gruppo una grande famiglia siamo molto affiatati ci piace fare molti eventi durante l'anno anche per raccogliere ovviamente denaro per la nostra sfilata che si tiene di febbraio ovviamente stasera siamo tutti qui per fare il tifo per Chiara che è il nostro orgoglio noi lo sentiamo particolarmente perché lei fa parte del nostro gruppo e quindi si è sempre mascherata con noi è come proprio una di famiglia quindi forza Chiara siamo tutti con te una parola anche per tutti gli altri amici del gruppo La Lupa che sono questa sera a servire questa miriade di persone certo allora abbiamo molti giovani con noi e questo ci rende molto fieri perché ovviamente un carnevale continua se c'è il ricambio generazionale noi cerchiamo di attirare sempre di più i giovani e i bambini perché crediamo molto nel futuro quindi ringraziamo tanto queste persone che ci aiutano e che ci danno anche stimoli per andare avanti e noi che eravamo lì presenti abbiamo appunto fatto le interviste anche al cantante, al frontman che è uguale, spiccicato a Lorenzo Cherubini ti ha fatto tanti auguri per il tuo lungo percorso e ti ha dedicato tante belle canzoni sì, infatti mi hanno mandato il video dove mi dedicavano la canzone a te se non sbaglio e quello è veramente un momento bellissimo tutte le cose che hanno condiviso con me il mio gruppo è stato veramente bello, davvero Paolo Masi è il frontman di questa Jova Band Tribute questa sera sono qui a Santa Croce sull'Anno per questa serata particolare perché? Perché c'è la finale di Miss Italia di cui un membro di questo gruppo di Santa Croce sull'Anno è finalista perché è Miss Toscana e voi canterete anche per lei? Noi canteremo anche per lei e speriamo anzi di poter festeggiare insieme perché sarebbe veramente bello poter concludere il concerto con la sua vittoria ancora prima delle immagini della RAI che saranno in diretta quasi un maxi schermo però già la gente, la piazza è già piena la piazza è già gremita ma in realtà era gremita già al soundcheck le terranno tutti a ascoltare è una bellissima situazione stasera bellissima, molto bella e quindi chissà cosa andrà durante la serata può darsi che col microfono mettiamo anche sul palco chissà se vince speriamo, speriamo io non vedo l'ora di sentire magari il boato mentre sto suonando e poi almeno so cosa è successo insomma sarebbe bello sarebbe molto bello per la Croce ma anche per la Toscana per tutti noi anche noi siamo toscani quindi sarebbe una bella cosa La musica di giovanotti vedo che ti appartiene anche fisicamente sì mi appartiene sì io sono un fan di Giova da quando avevo otto anni sono stato penso ai tempi di Gimme Five ero già un suo fan quindi poi sono andato avanti io ne ho 40 e non ho mai abbandonato questa passione è diventato un lavoro insomma quasi ti ascolteremo molto onorato buona musica grazie grazie ciao grazie Grazie a tutti